Sciogoramo a tutti! Quest'oggi inventiamo un nuovo gioco chiamato il tennis ball che consiste nel terreno un bastone di tennis per la rete e un pallone da calcio uno qualsiasi eh però non ho tanto gonfio perché sennò qualcuno si potrebbe fare male allora, è verità sono minori soprattutto di 168 anni perché qualcuno si potrebbe fare male il gioco consiste nel tirare il pallone addosso a un bimbo, ma oggi non lo finiamo perché ci abbiamo alla porta addosso a un bimbo e finché non gli farei male il gioco non finirà e così quando finirà, il giorno dopo andrà a vedere il tuo amico che si sarà fatto male così, all'ospedale con il gesso con una frattura al collo e 4500 ossa rotte che poi sarebbero 280 non lo so allora buon augurio salve finché non mi farò male a polso ci saluteremo alla prova Gerardo Lulli guardate zitti si deve preparare via come vedete questa prova l'ha sbagliata però ce ne sono altre di prove aspettate che lui si concentra un bel gol anche se è un po' raso terra vediamo che è un bellissimo gol ora lui ne farà quante ne vuole aspetta dai almeno conosci conosci che fare ora Gerardo Lulli è lui Gerardo Lulli quello che si è esibito sulle cose anche voi fate un video così ciao 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 ciao